Ascoltami un attimo, te lo ricordo di tutti i successi sportivi che hai avuto nel calcio da giocatore? Gli scudetti col Milan, la Coppa dei Campioni, il Mondiale con l'Italia? Cosa avevi in più degli altri? Anche se avevi magari meno classe, non so, di Pirlo e tanti altri centrocampisti? Avevi il veleno, tu eri forte, eri un gladiatore in campo, avevi il veleno e chi ha il veleno nel Milan? Se è il primo giorno che tu sei venuto al Milan all'allenatore e hai visto un po' i giocatori, chi è che ti aveva colpito di più di tutti? Era stato Patrick Cutrone, perché ha il veleno dentro. Sai qual è l'unica certezza che noi milanisti abbiamo adesso? Ed è la matematica. Sappiamo che se le vinciamo tutte e cinque, cosa che al momento attuale neanche il più ottimista potrebbe pensare, se le vinciamo tutti e cinque siamo in Champions League, che da sei anni mi pare non ci siamo e sarebbe un risultato, cioè per noi è come uno scudetto, ok? Quindi se le vinciamo tutte, abbiamo visto in queste ultime partite che Piontek è troppo solo, cioè non fa niente, poveraccio, perché lì è lasciato in mezzo all'area solo come un cane. Quindi se tu gli affianchi Cutrone, che ha il veleno, te lo ricordo, perché anche tu sei stato il primo a riconoscerlo, può essere che in area mettendo due persone ci sia più possibilità. Tipo ieri, no? Entrato Cutrone, gol in fuorigioco, ok? Però almeno c'è stata un'occasione. Col Parma è entrato nell'occasione del gol annullato in fuorigioco, è ok. Con la Sampdoria, Amarassi in Coppa Italia è entrata e ha fatto la doppietta. Questo ragazzo a noi serve, cioè si serve un giocatore del genere in questo momento che siamo moralmente a pezzi. Serve l'energia, la spensieratezza, il veleno di questo ragazzo. Proviamo. Poi il modulo lo decidi tu. Poi decidi tu, ovviamente, se le note del Milan, io non ho il patentino, molti altri che magari ti criticano o meno non l'hanno. Quindi scegli tu. Allora, io non so adesso le condizioni di Calabria, però se dovesse star fuori, io giocherei con la difesa 3, un 3-5-2, o un 3, dipende poi come sta a paquetà. Se sta a paquetà possiamo anche avere i trequartista dietro le due punte, che non sarebbe male. Cioè, se dobbiamo rischiare, giochiamocela almeno, cioè va bene non andare in Champions League, non c'è problema, tanto alla fine non è una novità per noi ultimamente, insomma. Ma almeno giochiamocela. Cioè, i milanisti vogliono che proviamo a giocare con classe, con grinta, cioè come se fosse, non dici che a Torino è la partita della vita, ma sono tutte le partite della vita ormai, visto che ci siamo fatti recuperare tutti quei punti. Il trittico fondamentale sono le prossime tre, ovvero a Torino, in casa col Bologna e a Firenze. Il Torino è in lotta Champions e c'è Mazzari che fanno un gioco un po' chiuso, che a noi comunque mette in difficoltà e poi comunque avranno il pubblico e motivazioni a mille, perché cercheranno di centrare un obiettivo per loro storico. Il Bologna di Sinisa, ex Milano, quindi magari anche un po' dente avvelenato, in più lotta per la salvezza, quindi avverrà col coltello tradiente a Milano, almeno un pari cercherà di portarlo via. E a Firenze, che magari la Fiorentina ha molto meno da giocarsi, però magari Montella avendo un po', essendo andato via un po' male dal Milan, cercherà comunque anche sperimentando giochi, un po' di palleggio, di metterci in difficoltà. Per lui vincere contro di noi sarebbe una rivincita mica da poco. Quindi dobbiamo stare attenti a queste tre. Se superiamo in Danny queste tre e dico sette punti? Nove punti? Magari? Allora le ultime due, diciamo che essendo Frosinone in casa e la Spal fuori casa l'ultima, che ormai non avranno più niente da chiedere a questo campionato, forse possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Altrimenti vedremo, vedremo dove saremo in classifica e faremo le valutazioni e così. Ma ti prego, metti le due punte, metti queste benedette due punte, giochiamocela con grinta, con veleno. Ok? Grazie. Vi saluto col solito inciso. Noi, sette volte campioni e voi, solo gran pipponi. Ciao!